Ciao gente! Benvenuti in questo nuovo episodio di Crash 2. Finalmente siamo giunti al quarto girone dell'ergastolo. Ne manca solo uno, e finalmente potrò rivedere Tauna, e salvarla dalle grinfie del lumino e dei suoi ergastolatori. Tra l'altro posso pure finalmente bombarmi Tauna come se non ci fosse un domani, come ai vecchi tempi. Non vedo l'ora, sono stufo di segarmi come al solito sui soliti giornaletti erotici, e che palle! Non vedo l'ora di svuotarmi le palle bandicuttiane, e dire a Tauna che è la bandicoot più gnocca del mondo. Nooooooo, proprio ora mi sono accorto che sono di nuovo finito nelle fogne di Sanloquendos. Qui dovrebbero esserci i risultati di tutte le cagate modificate di Aku Aku. Maledetto Mino, questo è troppo, un vecchio incontinente che tra l'altro è il mio unico amico dato che prima della prima avventura di amici non ne avevo, trasformi le cagate modificate e le rendi ergastolanti, uno non può nemmeno fare una cagata in santa pace, e che cazzo! Merda, c'è una puzza terribile, se non mi sbrigo a darmi una mossa, rischio di vomitare l'anima dei mortacci, compreso il cenone di Capodanno del 99. Siamo dei topi di merda e noi ce ne vantiamo. I cadrai solo toccandoci. Sei un comunista di merda, perché ti stai avventurando nelle fogne di Sanloquendos. A proposito, visto che mi sono presentato a Tommaso Vercello di Capon, mi presento anche con te. Io sono l'omino americano, provengo dal canale di Xanada, al momento inattivo, perché non si sta più dedicando ai loquendo, ma ad altro. Attento che i topi ubanici che se li tocchi, ti portano la democrazia in casa. Nooo, un altro omino rompicoglioni a mettersi in mezzo, e sono pure caduto, l'immortacci vostra. Vattene via, ho già l'omino ergastoloso che mi ha rinchiuso nei gironi degli ergastoli, mannaggia, se solo ci fosse un modo da evadere dai gironi dell'ergastolo. Oh ciao acquacu, ho visto che siamo di nuovo nelle fogne di Sanloquendos, dove l'omino ha preso tutte le tue cagate immonde e le ha modificate ergastolosamente. Cosa? Ah maledetto omino, modifichi pure le mie cagate, dopo aver sentito questo, tra poco sbocco sua sorella, sua madre che lo ha partorito dal culo, sbocco anche la sua anima dei mortacci taci che se nulla smette di modificare le mie cagate, giuro che gli faccio assaggiare la dentiera Masticanus. Adesso scusami Crash, ma il dovere di andare a cagare si fa sentire, che mal di pancia, aia aia, mi sa che ho una diarrea bruttissima, tra poco il mio culo andrà in fiamme. Nooo ti prego acquacu, non sboccare proprio adesso che sono ancora nelle fogne di Sanloquendos, se no a chi lo sente a sigello che ha fatto di tutto per sistemare tutto da solo da los Santa Salas Venturas per scagionare suo fratello Sviet, chissà come se la passa, ho sentito che grande fumo è stato ammazzato, e ora credo che devono occuparsi ancora di altri affari da sistemare, venendo al nocciolo della situazione, cerca di resistere acquacu, se no finirei per distruggere queste fogne, credo in te, puoi farcela so che puoi resistere fino a quando non riusciamo ad andarcene da queste fogne puzzolenti. Cacchio, ora mi sono accorto che siamo scesi ancora più in basso. Merda, c'è una puzza irrespirabile, appena mi rifornisco di potere saianosi, torno subito su, spero che non siano gli effetti delle scorreggie atomice generate da Super Mario dopo aver mangiato i funghi allucinogeni. Cazzo, è più letale del gas nervino, ora sì che ci voleva una maschera antiga sin stile Psycho Mantis. Madonna, sono tutto stordito, certo che i funghi allucinogeni di Super Mario sono veramente devastanti. Vedo tutto strano. Anzi, ho una visione. Vedo ta una nuda che mi fa le pompe, e che io ci do dentro per sfondarla malissimo, con tutte le posizioni del Kama Sutra, che proverò dopo aver rotto il culo all'omino. X di 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 che sensazione strana. X di... Cazzo, meno male che mi sono ripreso. Certo che i funghi allucinogeni che si mangia Super Mario sono proprio letali. E' proprio come nel video di Super Mario di Loquendo Italia, che come quando prendo un fungo allucinogeno non solo diventi grande, ma ha anche uno strano effetto. Tipo che vedi tutto strano e ti senti bombato. Una cosa del genere insomma. Sei un comunista di merda, perché non sopporti la puzza che emana le funghi di San Loquendos? Sarebbe come portarti la democrazia in casa. Stai attento che i barili compreso i topi, ti obamizzeranno. Meno male che sono arrivato alla fine delle funghi di San Loquendos, madonna, c'era una puzza insopportabile. E tra l'altro chissà perché c'erano anche le scoregge di Super Mario emanate dai funghi allucinogeni. Meglio non saperlo. Andiamo avanti che se no i miei polmoni tra poco rischiano di scoppiare. E intanto, siiii, i gemma e cristallo... Dai che presto l'omino ergastoloso sarà fottuto per la seconda volta, e spero per la seconda e ultima volta. Altre due conquiste. E ora. Ballo del bandicoot inchiappetatore, e mossa anti-ergastolante. Ammazza che stanchezza, mi sa che lascerò a Coco continuare il quarto girone dell'ergastolo. Ok fratellino Crash vai a riposare pure, mentre io vado ad avventurarmi anche io nel quarto girone dell'ergastolo. Finalmente sconfiggiamo per la seconda volta, e spero che sia l'ultima, sapete, sto hackerando i portali dei geroni per poi renderli accessibili, così in questo modo lo frego alla grande acqua l'omino ripugnante, piante che sparano granate, devo smetterla di farmi di acidi. Caspita, ma dove sono finita? Qua manco se fossimo capitati nella terza guerra mondiale, oppure siccome qua siamo sempre fissati con Metal Gear Solid, manco se si è scatenata una guerra nel Medio Oriente. Sei un comunista di merda, perché dici che qui si è scatenata la terza guerra mondiale, manco se fosse il Medio Oriente come in Metal Gear Solid. Sarebbe come portarti la democrazia in casa. Attenta alle piante carnivore spara palle verdi, se ti esplodono addosso ti obamizzeranno. Oh ciao acqua acqua, quale buon vento, non ci vediamo da un po', mi piacerebbe sapere chi è questo omino. Non sarà mica un altro omino rompio vai e come quello dell'ergastolo. Se sì, gli spacco quel muso con uno dei miei calci rotanti alla Chuck Norris. Coco, forse non te l'ho detto, ma questo che hai sentito prima è l'omino americano. Proviene dal canale di Xanada. È dalla democrazia in casa come se nulla fosse. Mi sa che sento puzza di unione. Non è che un giorno l'omino americano e l'omino dell'ergastolo stringono un'alleanza? Sarebbe una cosa terribile. Mi auguro che questo non accada mai. Maledizione. Trappole elettriche anche qui? Il mio fratellino Crash mi ha raccontato che c'è un topino giallo che gli sta facendo i dispetti. Ora temo che gli sta facendo i dispetti anche a me. Ma tornatene da quel fallito di Ash Ketchup e non se ne parla più. Ricaduta bruttissima. Mi sa che il dovere di andare al cesso mi chiama di nuovo. Mi scappa la cacca. Aia aia. Ho un dolore fortissimo alla pancia. Mi sa che tra poco il cesso scapperà correndo come un pazzo. Per come chiederà perdono per l'ennesima cagata mostruosa che sto per fare. No, non puoi lasciarmi sola proprio adesso che questo posto non me la conta giusta. È pieno di pericoli, piantacce stronze non come quelle nel video di Super Mario di Loquendo Italia che era nascosto lì e non valeva nemmeno. Manco se in questo posto si è scatenato un cataclisma tra piantacce che babbare che sembrano aver scatenato una guerra manco fosse il Medio Oriente e trappole elettriche create da quel topino giallo che ce l'ha con me. E intanto mi sto rifornendo di poteri saianosi che non si può mai sapere ci serve per affrontare altre avventure ancora più impegnative. No. Ditemi che non è vero. Sento un romzio. Ah-ah-ah una p-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e, vattene via-a-a-a-a-a. Maledizione, il battito cardiaco sarà salito a mille, ricordo ancora una volta che da piccola bandicoot che era un'ape mi ha punto e mia madre mi ha scambiato per un pesce palla e d'altronde la gente mi scambiavano per un mostro dato che sembrava un pesce palla per come un'ape mi fungeva, ma poi si è accorta che ero io e mi ha portato subito all'ospedale per curare il danno. Spero che questa esperienza traumatica non mi succederà più, ho solo i brividi a pensarci E intanto, siiii un cristallo Dai che non mancano molti cristalli, più gli altri 5 rimanenti dell'ultimo girone dell'ergastolo E finalmente io e Crash potremo rivedere la luce in fondo al tunnel C'è da considerare che bisogna anche raccogliere le gemme per battere definitivamente l'omino Per conto di embryo, che sparerà un raggio anti-ergastolante contro l'omino Che lo farà sparire finalmente dalla faccia della terra Anche se in realtà la terra non ha una faccia, ma vabbè Dettagli XD Ancora ste dannate api, merda corri 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 Non voglio essere punta di nuovo da quelle api Non voglio ripetere di nuovo quell'esperienza di molti anni fa Piuttosto andate a fare il miele invece di scassami le ovaie Aaaaaaah Ti ho fissa E chi sdeveveveve E come disse loquendo Italia la piantaccia stronza Io lo dirò in un altro modo E il piantaccia stronza è malefica Eri nascosta lì, sparando bombe da che babbaro Non valeva E come disse l'omino dell'ergastolo di loquendo Italia Io lo dirò in un'altra maniera Che vergogna Coco che insulta una innocua e innocente pianticina Che spara bombe da che babbaro Io gli darei l'ergastolo Anzi Ora che sei morta ci godo pure Omino di merda, pareva strano che non sentivo la tua vocina da checca da un po' di tempo Se speri che io vado a tagliarmi le vene Come fece Super Mario Ti sbagli di grosso Inizia a scappare che io e Crash Ti daremo una bella lezione per la seconda volta Stupido minchione mitologico a forma di erezione spontanea Mannaggia all'omino A furia di insultarlo male Non ho preso la gemma Magari la prossima volta va Intanto usciamo da questo postaccio Che affrontando le api Probabilmente avrò incubi per settimane Temo di non riuscire a dormire bene Per come ste dannate api mi hanno terrorizzata Bene gente E anche questo episodio loquendistico di Crash 2 volge al termine Al prossimo credo che tocca al fratellino Crash Che purtroppo dovrà probabilmente avventurarsi di nuovo nel livello della neve Che manco viene trasportato in Siberia Un saluto e alla prossima Grazie